Nuovo tesseramento per i circoli arci del territorio pescarese, nuovo slancio e soprattutto nuove leve. Cresce infatti il numero di giovani che si dimostrano interessati e propositivi verso la cultura e le iniziative ad essa connesse. Una programmazione di qualità che unisce all'intrattenimento, anche alla ristorazione, sempre appuntamenti importanti, coraggiosi di cultura e spettacolo. Per questo come assessore alla cultura mi sento di dover essere al fianco dell'arci dei circoli arci e avere un'interlocuzione continua con loro per vedere nascere sempre più belle cose nella nostra città. Aumentano le sedi arci sul territorio cittadino, ognuna con particolari e proprie caratteristiche. Anche le periferie si trasformano e diventano meta di cultura. Un buon segnale. Sì, molti circoli sono in zone periferiche, in zone abbandonate che questi ragazzi hanno rimesso in sesto e dato attività musicale e culturale. Penso che sia un esempio da seguire. Dobbiamo sostenere tutte le iniziative anche spontanee di ragazzi che vogliono utilizzare spazi abbandonati per renderli circoli arci o non arci.